Torna la notte europea dei ricercatori Neuromed domani, venerdì 24 settembre, studenti delle scuole di Molise e Campania in visita virtuale ai laboratori del centro di ricerca molisano. Un momento d'incontro tra cittadini e mondo della scienza, un momento dedicato soprattutto ai giovani. L'incontro tra la tecnologia e il mondo degli umani, nuove tecniche d'indagine, nuovi metodi per scoprire il mondo delle cellule e dei tessuti, nuovi modi per capire meccanismi più nascosti dell'organismo umano e curare le patologie. Sono questi i temi al centro della notte europea dei ricercatori Neuromed. Il titolo scelto per l'edizione 2021 parla di due mondi. Da un lato quello delle macchine, delle intelligenze artificiali, dei robot, dall'altro quello degli esseri umani. E su questa linea che Fondazione Neuromed e l'Istituto di ricerca Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con l'Istituto di ricerca Fondazione Pascale di Napoli e la Città della Scienza, incontreranno studenti di scuole superiori del Molise della Campania. Anche quest'anno la manifestazione, quando l'uomo incontrò la macchina, è virtual edition. I studenti visiteranno in modalità interamente online le tre istituzioni. Ci siamo attivati per poter dare un contributo importante soprattutto alle giovani generazioni, alle scuole che seguiranno questa iniziativa. E di questo dobbiamo essere grati anche ai nostri partner istituzionali, che sono l'Istituto Pascale e la Città della Scienza. Dobbiamo comunque insistere, soprattutto per quanto riguarda l'efficacia della tecnologia, che è indispensabile per poter progredire in ambito scientifico. Dalle 9.30 alle 12, dunque domani, attraverso una diretta Facebook e YouTube, i ricercatori si alterneranno per guidare gli studenti delle scuole partecipanti, in modo da esporre le ricerche in corso e aprire uno squarcio verso gli sviluppi futuri. Anche quest'anno l'IRCS Neuromed organizza la notte dei ricercatori. È un momento di incontro, di riflessione, di scambio di idee e anche una visione verso il futuro. Cosa le macchine possono portare di buono per la nostra salute? Noi siamo abituati a tante cose, ma dobbiamo sempre vedere con entusiasmo la tecnologia e tutte le innovazioni. Quindi i giovani saranno sottoposti a delle prospettive che li faranno sognare e potranno immaginarsi un pochino meglio il loro futuro.